Ancora Pescara allo Stato del Conero, una sfida antica sentita, mai banale nel Pescara, ci sono due novità, Brosco che ritrova la titolarità dopo tre panchine di fila in campionato, squizzato nel ruolo di play con Dagasso Mezzala, Dagasso sarà tra i migliori in campo, Tugnob in panchina, non ci sono Pellacani e Franchini, causa infortunio, Pellacani domani sarà operato dal dottor Tavoglieri per la lesione del menisco interno del ginocchio destro nell'Ancona, 4-3-3, Peruchini non è al meglio ma al di schiena, al suo posto tre pali vitali classe 98, davanti ci sono gli attaccanti Energe e Cioffi a supporto di Spagnoli, L'arbitro è centi della sezione di Terni, non comincia affatto bene nel Pescara, miglior approccio da parte dell'Ancona, c'è questo spunto di Cioffi, il colpo di tacco molto bello di Sacco, l'Ancona in vantaggio dopo sei minuti, si stacca molto bene dalla marcatura dei centrali in Sacco, il Franco Maliano classe 2002 in prestito dal Napoli, colpo di tacco non pulitissimo, nulla da fare per Rapplizzari, E' bello lo spunto però di Cioffi che riesce a superare in dribbling con un doppio passo il suo dirimpettaio Floriani che farà fatica nel primo tempo e poi il pareggio al diciottesimo, chiaro, l'infortunio del portiere Vitali sulla stoccata di Cangiano, Un tiro centrale, insomma la complicità da parte dell'estomo di frazione dell'Ancona Vitali che sostituisce Peruchini è piuttosto evidente, rivediamo il tiro, il quarto gol in campionato per Cangiano classe 2001 in prestito dal Bologna, cresciuto nella Roma. Poi ventunesimo minuto viene fermato Cuppone in posizione di offside su un bel lancio dalle retrovie, o meglio da parte di Squizzato e poi vediamo qui l'occasione per i biancazzurri con il sinistro di Merola, la deviazione di Paolucci, la palla che sfiora la traversa, l'arbitro non concederà il calcio d'angolo. Ventisettesimo, il tentativo di testa di Sacco con la palla che termina distante dal palo sinistro della porta difesa da Plizzari, sempre uno a uno con l'Ancona che attacca, siamo al ventottesimo, il calcio d'angolo di Energia, il colpo di testa di Sacco e la parata importante da parte di Plizzari che si salva andando il pallone oltre la traversa, tutto questo al ventisettesimo, ventottesimo minuto. Ancora un calcio d'angolo, sempre di Energia, trentatresimo minuto, palla che viene allargata per Paolucci e c'è un intervento qui decisivo ancora di Plizzari sulla stoccata di Lorenzo Paolucci, ex giocatore del Pescara, abruzzese di Tollo, poi ci prova da calcio piazzato, calcio franco, lo stesso Merola, la palla viene respinta dal portiere avversario, siamo nel secondo tempo, sembra cominciare meglio l'Ancona con questa insidia, siamo al quarantasettesimo, il tentativo ancora su calcio d'angolo, poi il colpo di testa di Sacco ma in posizione evidente di fuorigioco, dunque gol annullato, c'è stata anche la segnalazione del guardaline, dell'assistente del direttore di gara Centi di Eterni, poi una conclusione a parte di Biancazzurri, ad opera di Cupponen, la palla viene bloccata facilmente dal portiere dell'Ancona Vitali e poi su cross di Floriani la volée di Merola, la deviazione di Vitali, la palla sulla traversa, il Pescara ad un passo dall'1-2, siamo al sessantatresimo, ancora un calcio di punizione questa volta di Cangiano, il portiere riesce a respingere, non accadrà altro, tante sostituzioni, cinque minuti di recupero, finisce 1-1 ad Ancona, tra Ancona e Pescara, il quarto risultato utile consecutivo per i Biancazzurri, tre vittorie ed un pareggio.